Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 per un veicolo in avaria 7 km di coda tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fipili in direzione Firenze per lavori 2 km di coda tra Empoli e Montelupo-Fiorentino. Rallentamenti in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. I treni, ricordiamo che fino al 2 settembre per lavori di potenziamento la linea Bologna-Prato è interrotta tra Prato e Pianoro. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!